e si riparte, un gol di vantaggio beh l'inerzia della partita è cambiata in loro favore non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando mostrano un buon controllo del gioco ha la possibilità di andare verso la porta si libera la grande attenzione c'è il retropassaggio arriva Cristiano Ronaldo parata di Donnarumma si esprime in un buon intervento era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato si sbagliava Fabio nuove energie dalla panchina vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchino l'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione due cambi drastici Fabio ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario spazio deve tirare pallone lungo in verticale la gioca sulla destra un pressing che non definirei asfissiante cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee è una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio Cristiano Ronaldo bella apertura sulla destra la mette in mezzo un salvataggio molto efficace che classe ottimo salvataggio non c'è che dire il portiere è rimasto lucido e ha reggito bene e va a colpire di testa niente da fare ha perso una buona occasione qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari Zito prova a scavaccare avversari con una palla lunga se ne va intervento completamente sbagliato calcio di rigore nessun dubbio sicuramente non era in programma ma niente da fare